Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori, benvenuti ad una nuova edizione del nostro TG Prima. In primo piano il semaforo delle regioni italiane continua a cambiare colore. Nella nuova ordinanza firmata dal Ministero della Salute Roberto Speranza si determina il cambiamento di fascia della regione campania da rossa ad arancione dal 6 dicembre. Quindi il territorio campano passa da essere classificato da alto rischio coronavirus a rischio moderato alto. Cosa cambia effettivamente per la popolazione? Si potrà uscire di casa e muoversi all'interno del proprio comune senza dover esibire l'autocertificazione. Resta l'obbligo del coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 del mattino. Restano vietati gli spostamenti tra comuni e tra province o regioni. Potranno finalmente riaprire tutti i negozi ad eccezione di bar e ristoranti che potranno proseguire però con l'asporto e le consegne a domicilio. Il prossimo monitoraggio sarà effettuato già giovedì prossimo. Il presidente della regione campania Vincenzo De Luca ha parlato durante la sua abituale diretta facebook del venerdì del regime di trasparenza seguito dall'inizio della pandemia dalla regione campania a differenza di altre realtà del nostro paese. Ascoltiamo un estratto delle sue parole in questo servizio. Per quanto riguarda i ricoveri dei pazienti covid non abbiamo ormai nessuna difficoltà. Siamo sotto il 40% dell'occupazione dei posti letto previsti. Per quanto riguarda le terapie intensive siamo scesi ormai a una occupazione di terapie intensive che va dal 160 al 180 dei ricoveri in terapia intensiva. Abbiamo raddoppiato le nostre terapie intensive da febbraio ad oggi. Abbiamo una percentuale di occupazione delle terapie intensive che ormai sul 26-27%. Abbiamo una situazione di ottima tenuta. Questo nel momento in cui in Italia ci troviamo di fronte a dati che sono clamorosamente falsati. E non voglio aggiungere altro. Ci sono regioni che trasmettono un dato inverosimile di posti di terapia intensiva per fare abbassare la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva. vedrete nelle prossime settimane sarà chiaro che la Campania è una delle pochissime regioni che ha trasmesso dati veri. E sempre nel corso della conferenza stampa social del venerdì il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato del successivo piano di vaccinazione anti-covid. A completare il quadro della nostra sanità aggiungo le notizie relative ai tamponi. Siamo una regione che oggi trasmette i risultati dei tamponi entro le 24 ore con un sms. Credo ormai alla quasi totalità dei cittadini che fanno i tamponi. Se vi sono ancora piccole eccezioni vi prego di segnalarcele. Ma abbiamo messo in piedi un sistema informatico per cui la trasmissione del dato avviene entro le 24 ore. Per quello che riguarda le vaccinazioni siamo una regione all'avanguardia. Ad oggi noi abbiamo avuto in Campania l'arrivo di un milione e quattrocentocinquantamila vaccini anti-influenzali. Anche sui vaccini sono circolate in Italia notizie totalmente false. Credo di poter dire che anche per le vaccinazioni la Campania è all'avanguardia. Queste notizie non le ascolterete, le saprete fra qualche settimana. Ci stiamo attrezzando per quanto riguarda le vaccinazioni anti-Covid. Credo che per la prima decada di gennaio faremo anche una sorta di esercitazione generale per verificare il piano organizzativo che abbiamo messo in piedi. Seguiremo in maniera puntuale nei prossimi giorni l'attuazione di questo piano. Stiamo rifornendo tutte le strutture territoriali dei congelatori a meno 80 gradi per essere pronti già a metà gennaio a mettere in piedi un piano di vaccinazioni straordinaria. E altro argomento toccato dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, è stata l'opera di aggressione mediatica intrapresa da alcune trasmissioni di TV di portata nazionale. Ascoltiamo il suo punto di vista. Allora, siccome siamo attestati sulla linea della coerenza, confermo che chiunque voglia fare campagna di informazione corretta non deve fare altro che mandare le domande e le richieste di informazione o all'unità di crisi regionale o all'assessorato regionale, al responsabile regionale della sanità. Avrà tutte le risposte sulle quali pone interrogativi nell'arco di 24 ore. Chi vuole informazioni, chi vuole fare sceneggiate televisive per fare aumentare gli ascolti, faccia quello che vuole. Per questi ovviamente le chiarificazioni le daremo nei tribunali. Date per scontato che tutte le falsificazioni avranno come seguito per le persone e per le emittenti querele per diffamazioni. Non ne parliamo oggi semplicemente per non fare pubblicità gratuita, perché questo cercano per fare aumentare gli ascolti. Vi invito ancora a cambiare il canale quando vi sono trasmissioni chiaramente diffamatori e costruite semplicemente nell'ambito della campagna politico-mediatica per spostare l'attenzione dal nord a Napoli. Questo è tutto. Sapete che non c'è più neanche l'ombra di una fila al Cardarelli, al Cotugno. Poi per carità può succedere la fine del mondo. Ad oggi la situazione è questa. Nella regione Campania, nella seconda ondata di epidemia, nessuno è stato messo sui materassini a terra, come mi è capitato vedere per qualche realtà del nord. Non si sono aperti luoghi di ricovero nelle palestre, nei palazzetti dello sport, nelle sagrestie, nelle chiese, pure in un contesto di grande difficoltà. Abbiamo accolto, ospitato e curato con dignità tutti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato ieri sera in una conferenza stampa alla Nazione le regole del nuovo DPCM previste per salvare il Natale ed evitare una terza ondata nel mese di gennaio. Il provvedimento è entrato in vigore già nella giornata di oggi, venerdì 4 dicembre. Sentiamo un estratto della conferenza del Premier. Vi riassumo le misure. Iniziamo dagli spostamenti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra, anche per raggiungere le seconde case. Attenzione, nei giorni 25 dicembre, Natale, Santo Stefano, 26 dicembre, primo gennaio, sono vietati anche gli spostamenti da un comune all'altro. Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle 22 alle 5 del mattino. Per Capodanno però questo divieto sarà esteso dalle 22 della sera prima alle 7 del mattino del primo gennaio. Ovviamente ci si potrà sempre spostare per esigenze lavorative, per motivi di salute e anche per casi di necessità. E voglio anche chiarire che nei casi di necessità ricorrere, faccio un solo esempio, anche l'iniziativa di prestare assistenza a persone non autosufficienti. In ogni caso è sempre consentito il rientro nel comune in cui si ha la residenza, sia il domicilio, che è il luogo di lavoro, il luogo delle attività abituali, o dove è la propria abitazione, vale a dire il luogo dove si abita con continuità o periodicità. Ecco, questo permetterà, faccio un esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane, distanti per motivi di lavoro, ma che convivono quantomeno con una certa frequenza periodicità nella medesima abitazione. Rientri dall'estero. Gli italiani che andranno all'estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio a rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. È una misura chiaramente dissuasiva. Non sappiamo dove andranno, non sappiamo se dove andranno, saranno consentiti veglioni, festeggiamenti e quali misure saranno previste. Ma anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo saranno sottoposti alla stessa misura della quarantena. Il Presidente Conte si è anche espresso sull'apertura dei negozi ed una misura per sostenere le attività commerciali. Il piano Italia Cashless. Ascoltiamo l'estratto della conferenza di ieri in questo servizio. Quanto ai negozi. Da venerdì 4 dicembre fino al 6 gennaio i negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21. Non vogliamo limitare lo shopping, la consuetudine di scambiare dei doni natalizi. Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri commerciali saranno però aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai. Sempre in collegamento con lo shopping cosiddetto natalizio per sostenere le attività commerciali. Questo settore che è in grande sofferenza è anche per aiutare le famiglie. Abbiamo deciso di far partire da subito il piano Italia Cashless. Cosa significa? Che dall'8 dicembre prenderà il via l'extra cashback di Natale, che prevede che chi paga con carte, carte anche pressoché gratuite, app, avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre. Tutto, anche comprando pane, pasta, carne, oppure giocattoli per i nostri bambini, andando dal parrucchiere, andando dal dentista. Ci sarà un rimborso che potrà quindi arrivare sino a 150 euro. E questa, attenzione, non vale per la famiglia, ma per la singola persona. Quindi sarà accumulabile anche all'interno della famiglia. Abbiamo voluto peraltro evitare che questa misura di vantaggio fosse valida anche per gli acquisti online, perché è un periodo questo della pandemia in cui tutti, un po' tutti, abbiamo incrementato, contribuito a incrementare gli acquisti online. Adesso però dobbiamo favorire gli esercizi commerciali, i negozianti, gli esercizi di prossimità. Ancora, vi ricordo che per partecipare a questo programma dovete scaricare l'app Io, identificarvi con la vostra carta di identità elettronica o Speed. Sembra molto complicato, ma vedrete che è molto semplice. Ora il Covid in primo piano. Sono 1.651 i nuovi contagi da coronavirus nella regione Campania, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'unità di crisi regionale. I tamponi effettuati sono stati 18.733 per una percentuale di positività ai test che raggiunge l'8,81%, un dato ancora in costante diminuzione. Altro dato confortante è quello del numero dei guariti che tocca quota 2.284 nelle ultime 24 ore. Prooccupano invece i numeri dei decessi. Sono 85 quelli registrati oggi, di cui 42 nelle ultime 48 ore e 43 deceduti nei giorni precedenti, ma inseriti nel conteggio giornaliero. La situazione ospedale invece recita che sono 166 i posti occupati in terapia intensiva su 656 disponibili, mentre sono 1.999 i posti letti occupati nei reparti Covid, anche questo in costante diminuzione. Facciamo il punto invece della situazione coronavirus in Italia. Sono invece 24.099 i nuovi positivi al coronavirus su tutto il territorio nazionale, secondo l'ultimo bollettino diramato dalla protezione civile. I tamponi effettuati sono stati 212.741 per una percentuale di positività ai test che raggiunge l'11,33%, in aumento di un punto percentuale rispetto a ieri. Dal bollettino si segnalano purtroppo 814 decessi, un numero ancora molto elevato anche se in diminuzione rispetto alla giornata di ieri e sono 25.576 i guariti da coronavirus. Il numero maggiore di nuovi casi si è verificato in Lombardia con 4.533 nuove positività, seguita dal Veneto con 3.708 ed Emilia Romagna con 2.143. Adesso facciamo il punto sulla situazione coronavirus sulla provincia. Sono 261 i nuovi contagi segnalati in tutta la provincia nel nuovo bollettino dell'Asla di Caserta. I tamponi effettuati sono stati 2.144 per una percentuale di positività ai test che è pari al 12,2%, lievemente in aumento rispetto alla giornata di ieri. Aumentano i guariti, sono 945 le persone che si sono negativizzate in tutta la provincia ma purtroppo si segnalano altri 9 decessi. Due nella città di Aversa, uno a Casapesenna, Maddaloni, Casaluce, Marzano Appio, Sant'Angelo Dalife, Succivo e Sant'Ammaro. Le città con il maggior numero di attualmente positivi nella provincia di Caserta sono 827 appunto con la città di Caserta, Aversa con 794, Marcianise con 708 e Maddaloni con 502. Cambiamo argomento, da venerdì 4 dicembre parte ufficialmente il primo servizio gratuito di consegna dei libri a domicilio nella città di Caserta. L'idea è nata dalla rete di associazioni che gestisce il progetto Biblioteca Bene Comune, sostenuto dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il Libro e la Lettura, l'indomani del decreto dello scorso 3 novembre che chiudeva le biblioteche causa Covid-19 ma confermava i libri tra i beni di prima necessità e pertanto ne consentiva la consegna il prestito nonché la vendita. Le associazioni del progetto Biblioteca Bene Comune hanno quindi avviato un lungo e condiviso lavoro di acquisto di libri, reperimento di testi donati da singoli cittadini e da altre organizzazioni del territorio per creare il Fondo Biblioteca Bene Comune che verrà successivamente donato alla Biblioteca Ruggero di Caserta e i cui testi sono da oggi richiedibili per la consegna a domicilio. Il catalogo che è possibile consultare sul sito web www.bibliotecabenecomune.org è composto da 437 titoli e verrà aggiornato settimanalmente. Contiene i best seller del 2020, un'ampia scelta di libri per bambini e ragazzi, testi di storia, saggistica, raccolte di poesie, libri in diverse lingue e testi accessibili ed inclusivi. Cambiamo argomento, ora è il momento dello sport. Lo Stadio San Paolo da oggi cambia nome, da oggi si chiamerà Stadio Diego Armando Maradona. La delibera approvata oggi è stata proposta dal sindaco del capoluogo campano Luigi De Magistris, dall'assessore alla toponomastica Alessandra Clemente e firmata da tutta la giunta comunale che si è riunita nel pomeriggio a Palazzo San Giacomo. Nell'atto ufficiale dell'amministrazione comunale di Napoli Diego Armando Maradona viene ricordato come il più grande calciatore di tutti i tempi, i cui altissimi meriti sportivi sono stati tra l'altro riconosciuti con la nomina ad ambasciatore della FIFA che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia della squadra del Napoli, regalandole i due scudetti della storia e altre coppe prestigiose e ricevendo in campio dalla città intera un amore eterno ed incondizionato. In chiusura vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Prima Sere A alle ore 21.30 sempre su questi schermi, sempre sui canali di Teleprima. Il programma è condotto da Alessia Bartiromo e Giovanni Gaudiano e ci saranno come ospiti Francesco Ricciardi della redazione del nostro telegiornale, poi Gianni Di Marzio e la firma del Corriere dello Sport Antonio Giordano. E con questo eravamo in chiusura, vi auguriamo un buon proseguimento di serata sui nostri canali.